bene ci siamo stiamo per fare una cosa estremamente stupida cioè lui sta per fare una cosa estremamente stupida noi stiamo per testimoniare una cosa estremamente stupida proveremo una pistola che sta già recensita dal nostro grande uomo recensitore la jpx ragazzi pistola di difesa personale spara gel al peperoncino non è il peperoncino che usate voi al ristorante per condire la pizza è il peperoncino molto molto potente comunque basta con le parole io direi che adesso non muoverti assolutamente rimane fermo chiusa noi ci trasportiamo via sei pronto sei pronto? perfetto? no! perfetto eh dove ti metti a sparare? perfetto vabbè 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 ah comunque se noessi tirando a cazzo a qualcuno ci riuscirei ah& è molto meglio ah c*****o vuoi un'altra bottiglia ah porca p***a ah porca p***a Niente, si è fatto sparare in petto, gli ha dato negli occhi, infatti sembra Fatissimo e adesso però non è contento e quindi si fa sparare un'altra volta, come sto leggermente meno potente. La pdp della water, sempre di pesa personale Ho chiesto una ragazza da poter Quale quali non lo possiamo mettere nel video, non ne chiamo questa cosa Chiudi gli occhi, chiudi quei c***o d'occhi No, solo la videocamera Che schifo è che mi è andato in gola Vecchio, mi è finito in gola O è l'inferno, è incredibile Cioè, non riesco a starci Ho fatto fino adesso la doccia Adesso che sono uscito è tornato a bruciare Te non hai capito che io appena sono arrivato a casa ho preso un cartone di latte Sono andato dentro la doccia e me lo sono versato adosso Adesso ancora ho il braccio destro in fiamme Come dolore è davvero paragonabile a un'ustione Ustione di terzo grado esposta al sole Non ci riesco, c***o, non lo fare, assolutamente, mai Ciao 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 Ciao